Ricomincio da zero il 4 dicembre al Teatro Garibaldi e il nuovo spettacolo di un grande artista, una performance importante, di un artista che ritorna sul palcoscenico Emanuele Mauceri. Buongiorno a tutti, benvenuta a Modica, una città bellissima, è il mio debutto in questa città. Ricomincio da zero nasce 25 anni fa, nel 1990, per la mia passione e la mia amicizia con Renato Zero e sono 25 anni che portiamo in giro questo prodotto. Molto bello, molto bene organizzato, live ci tengo a dirlo perché con i musicisti dal vivo non siamo con le basi per capirci, no? E abbiamo lavorato bene per darvi la possibilità di vedere questo bellissimo spettacolo giorno 4 a Teatro Garibaldi di Modica. Come nasce l'idea di questo spettacolo, come hai detto tu, ventennale ma che sempre si rinnova e si ripropone? Allora già dal titolo nasce, come si dice, ricomincio da zero, da una passione mia per Renato Zero. Io sono cresciuto come tanti della mia generazione con la musica di Renato Zero e piacendo il prodotto e avendo questa passione di cantare ci ho provato e piano piano negli anni abbiamo cercato di perfezionare questo prodotto. Grazie per la visione!